Musica Chiuse le iscrizioni all'istituto scolastico, i ragazzi liguri scelgono i licei e fra i licei preferiscono lo scientifico, i dati raccolti dalla regione. Musica Nessun pedaggio sino a Bolzaneto in A7, sino a Rapallo in A12, escluso il tratto Rapallo-Sestri Levante, la regione è un primo passo, cantieri per 90 giorni, ci sarà una pausa a Pasqua. La scogliera difesa delle gallerie di Sant'Anna sarà realizzata entro aprile, la conferma di Anna, sei sindaci di Sestri Levante e Lavagna, i lavori partiti il 16 novembre scorso. Musica Una nuova metodologia per trovare le malattie del fegato con procedure più economiche e meno invasive, il software ideato da Paolo Borro e portato avanti dall'equipe del San Martino. Musica Nel giorno della memoria il Papa mette in guardia bisogna stare attenti perché queste cose possono ancora succedere, nella Catechesi riflessione sulla Sacra Scrittura, un tesoro inesauribile. Musica Conoscere la storia per non dimenticare, gli ospiti dell'Anfas e Tigullo-Est hanno realizzato un video in cui raccontano con i disegni gli eventi storici che hanno portato la Shoah. Musica Musica Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullo oggi, in apertura ci occupiamo di scuola. I ragazzi liguri preferiscono i licei. Concluso il tempo delle iscrizioni, Regione Liguria ha fatto i conti ed è emerso che il numero dei ragazzi che decidono di seguire il percorso liceale è più alto rispetto alla media nazionale. Fra i licei vince lo scientifico che è stato scelto da più del 17% degli studenti e delle studentesse di terza media. Sentiamo. Si tirano le somme a seguito della conclusione del periodo dedicato alle iscrizioni ai vari cicli di istruzione anche in Liguria. Secondo i dati riferiti dalla Regione, la scelta degli studenti di terza media che devono iniziare a settembre il percorso nella scuola superiore è ancora più polarizzata sui licei che hanno raccolto il 59,8% delle iscrizioni, un dato leggermente più alto rispetto alla media nazionale che si assesta al 57,8%. Chiaramente questa scelta va a discapito degli istituti tecnici che, a livello regionale, sono stati scelti dal 28,4% dei ragazzi e delle ragazze che si apprestano a finire il ciclo della scuola media, mentre a livello nazionale i tecnici arrivano al 30,3%. Fra i licei è lo scientifico ad aver raccolto il maggior numero di adesioni con il 17,5% degli studenti e delle studentesse di terza media della Liguria. Segue il linguistico con il 10,4%, mentre gli altri indirizzi liceali sono stati scelti rispettivamente dal 6% della popolazione scolastica, classico 6,9%, scienze applicate 6,1% e artistico 6%. In Liguria si registra poi un leggero calo rispetto alla scelta della formazione professionale. Sono 359 le iscrizioni e i percorsi di cui Regione Liguria ha diretta competenza. Lo scorso anno erano stati 412. Il dato è letto in maniera positiva dall'assessore alla formazione e all'istruzione Ilaria Cavo, perché non c'è stato un calo ancora più netto. Le difficoltà della pandemia rendono l'accesso ai laboratori particolarmente complesso. Ma c'è una possibilità in più. Le famiglie e gli studenti che vorranno iscriversi ai corsi di istruzione e formazione professionale triennali, sono 36 quelli attivati in Liguria, non potranno più farlo sulla piattaforma del Ministero, ma potranno continuare a farlo contattando i singoli enti di formazione fino alla fine del mese di agosto, una opportunità importante che consente di avere un maggiore margine di tempo. Il dato delle iscrizioni agli istituti professionali in Liguria è in linea con quello nazionale e si assesta all'11,8%. E sempre a tema, la scuola alberghiera di Lavagna ha riaperto le iscrizioni per il percorso di istruzione e formazione per tecnico della produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio. Il corso della durata di mille ore di cui parte in stage e ci si può iscrivere sino al 26 di febbraio. Ora il tema della viabilità, sceglie di non polemizzare Regione Liguria a seguito della decisione di autostrade di estendere l'esenzione del pedaggio autostradale sino a Bolzaneto in A7 e sino a Rapallo in A12, escludendo quindi la tratta tra Rapallo e Sestri Levante. I cantieri dureranno 90 giorni circa, con una pausa nel periodo di Pasqua. Sentiamo cosa ha detto a Telepace l'assessore regionale Giacomo Giampedrone. Intanto abbiamo preso atto della decisione del concessionario di estendere in realtà una zona rossa che esiste già per il nodo genovese, purtroppo dai tempi del crollo del Ponte Morandi fino a Rapallo e fino a Genova-Bolzaneto in direzione della A7 verso Milano. È chiaro che noi abbiamo chiesto invece un'estensione totale per tutti quei cantieri che accompagneranno la Liguria almeno nei prossimi 90 giorni. Lo prendo come un primo passo, senza voler sempre far polemica nei confronti del concessionario e del MIT, ma è evidente come dire che abbiamo delle situazioni ancora insufficienti per andare incontro ai disagi tanti dei cittadini Liguri e non solo che si trovano costretti a percorrere tratti di autostrada con situazioni molto critiche e immagino come dire che queste situazioni saranno così da qua almeno ai prossimi 90 giorni con uno stop già preventivato ed è cosa concordata ieri nella settimana diciamo nel weekend pasquale nella speranza almeno che il coronavirus ci abbia un pochino allentato la sua presa in modo da poter garantire anche una ripresa economica, commerciale e turistica della nostra regione con l'avvio della primavera estate. Direi che ieri Autostrade ha presentato un piano di comunicazione che era una delle richieste fatte dalla regione insieme all'automatismo dell'esenzione totale del pedaggio in accompagnamento a questi cantieri che hanno durata di media 15-20 giorni in alcuni casi come accadrà tra qualche settimana sulla 7 anche per più di due settimane per le manutenzioni sulla Monte Galletto deve essere un piano di comunicazione anticipato, continuo, capillare e costante io credo che è un qualche cosa che sicuramente è un passo avanti bisogna capire quanto è importante l'efficacia della ricaduta sui territori perché è evidente che comunque una buona comunicazione un buon livello di bollettino dei disagi giornalieri da parte di Autostrade è comunque una possibilità per evitare disagi se poi fosse accompagnata dall'estensione totale anche ad altre tratte del pedaggio è chiaro che si sarebbero in questo caso accompagnati tutti i cittadini nel migliore dei modi E anche i consiglieri regionali Sandro Garibaldi e Claudio Muzio chiedono di estendere l'esenzione dei pedaggi all'intera percorrenza anche sulla tratta tra Rapallo, Chiavari e Sestri-Levante rimaniamo in tema di viabilità perché il cantiere posizionato dalle gallerie di Sant'Anna operativo dal 16 novembre scorso per la realizzazione di una massicciata sarà concluso entro il prossimo aprile lo conferma la direzione regionale di Anas che ha risposto alla richiesta di informazioni avanzata dai sindaci di Sestri-Levante e Lavagna entro la primavera dunque salvo imprevisti l'ultimo lotto del progetto di messa in sicurezza delle gallerie potrebbe essere concluso con il potenziamento della scogliera di massi tutte le lavorazioni, sottolinea Anas non interferiscono con la viabilità ordinaria se non per il tempo necessario per l'ingresso nell'area di cantiere dei camion che trasportano i massi e che si stanno progressivamente posizionando Veniamo ora ai dati relativi al coronavirus in Liguria sono 268 nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 4.123 tamponi molecolari eseguiti a cui si aggiungono 3.015 tamponi processati con test antigenico rapido 9 sono quelli in Asle 4 i nuovi positivi in Asle 4 continua a scendere il numero degli ospedalizzati meno 23 rispetto a ieri su un totale di 659 in tutta la Liguria di cui 68 in terapia intensiva invariato rispetto a ieri il numero degli ospedalizzati in Asle 4 sono in tutto 45 si ora quota 50.000 il numero dei vaccini somministrati 7.000 sono le seconde dosi e proprio a proposito di vaccino inizierà il 15 febbraio se non ci saranno ulteriori ritardi nelle consegne delle dosi le vaccinazioni in Liguria per gli ultra-ottantenni i disabili psichici e le persone più fragili lo conferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti a maggio invece partiranno le somministrazioni per gli over 75 in modo da mettere al sicuro prima dell'estate tutti i soggetti più a rischio e ridotto drasticamente la mortalità e i ricoveri in ospedale sul tema dei vaccini ritorniamo ora con il nostro esperto Bonanni a parlare di quelli che sono i dubbi e le perplessità circa il vaccino anti-covid tra gli aspetti che preoccupano ci sono le possibili reazioni avverse ma la rassicurazione dell'esperto è che da 40 anni in Italia non sia notizia di shock anafilattico post-vaccinazione tra gli aspetti che preoccupano del vaccino anti-covid ci sono le possibili reazioni avverse ad oggi si sono verificati rari e sporadici casi alcuni comuni e poco preoccupanti di avere un po' di dolore dove ci hanno fatto riniezione penso che succeda anche con il vaccino di riniezione con qualsiasi cosa che noi ci rinieziamo può dare un po' di affaticamento un po' di mal di testa sono tutte cose di breve durata che dobbiamo aspettare senza particolari occupazioni Qualcuno ha avuto sintomi covid dopo la prima dose ma rassicura Bonanni non c'è correlazione con il vaccino che non può essere efficace appena iniettato inoltre ricorda nella fiala non è presente il virus Sono persone che evidentemente avevano in incubazione già la malattia quindi hanno fatto la vaccinazione non erano ancora malati o inferti in quel momento poi magari dopo due o tre giorni l'incubazione le ha portate ad ammalarsi La notizia di alcune morti avvenute dopo la vaccinazione ha causato comprensibile spavento coincidenze per Bonanni la morte poteva sopraggiungere anche a causa di altri fattori Viene fatta una grandissima attenzione a questo possibile rapporto di causa-effetto ma va sicuro che per quanto riguarda quelle morti che sono state citate non c'è assolutamente alcuna relazione di causa-effetto sono delle coincidenze temporali come ne vediamo e come se ne verificano ogni giorno decine La vera condizione di rischio da tenere in considerazione è lo shock anafilattico Qualche caso c'è stato Bonanni invita a stare tranquilli Da 40 anni in Italia non si ha notizia di shock anafilattico post-vaccino La somministrazione inoltre viene fatta in ambiente protetto e controllato Quando ti fanno il vaccino contro il Covid ti lasciano 15-20 minuti in una sala d'attesa abbastanza ampia per starci tutti per essere distanziati ma ti tengono sotto osservazione dopo che sono passati quei 15-20 minuti lo shock anafilattico non ti è venuto e quindi puoi andare tranquillo Il futuro dell'ASL4 al centro dell'incontro tra il consigliere chiavarese di partecipativa Giorgio Canepa e il nuovo direttore generale dell'ASL4 Paolo Petralia sul tavolo il rischio di smemmamento dell'azienda sanitaria locale la necessità di rafforzare l'ospedale di Lavagna ed il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico Su quest'ultimo punto Petralia ha espresso l'intenzione di farne uno strumento completo e di attuare una vera digitalizzazione del servizio sanitario Un nuovo modo per individuare le malattie del fegato senza biopsia ma attraverso una semplice ecografia è possibile grazie ad un software nato dalla collaborazione tra un gruppo di epatologi del Policlinico San Martino di Genova ed alcuni ingegneri dell'Università sempre di Genova ne abbiamo parlato con Paolo Borro ideatore del progetto Costi minori e procedure meno invasive per cercare le patologie del fegato sono due dei principali punti di forza della nuova procedura messa a punto al Policlinico San Martino di Genova un software che permette di misurare quanto il fegato si è ammalato attraverso una semplice ecografia senza necessità di ricorrere alle tradizionali metodiche elastometriche è la differenza di costo in quanto le metodiche elastometriche hanno dei costi abbastanza consistenti che possono andare da 10.000 anche ai 60-70.000 euro questa è una metodica sostanzialmente studiata in modo chiamiamolo artigianale ma che ci fornisce risultati analoghi e se vogliamo in alcuni casi anche alternativi un percorso iniziato nel 2017 con alcuni studi preliminari arrivati poi nel 2018 ad una pubblicazione sulla divisa scientifica della World Federation of Ultrasound in My Design Biology la squadra che ha lavorato al progetto è formata da un gruppo di una decina di apatologi del San Martino ed alcuni ingegneri della Scuola di Scienze Matematiche dell'Università di Genova diretti dalla professoressa Silvana Delle Piane a seguire la parte finanziaria e l'analisi costi e benefici l'economista sanitario Enrico Mazzino adesso perché questa metodologia possa essere applicata su larga scala è necessario iniziare con la fase del cosiddetto sviluppo lo sviluppo vuol dire che è necessario l'intervento di aziende o di fondi che abbiano l'interesse di trasferire questa metodica per un largo utilizzo anche nei centri più periferici perché fra l'altro la metodica è molto semplice e può essere utilizzata da qualsiasi ecografista anche tra quelli non più esperti sul fegato gli esami di questo tipo permettono di monitorare il fegato e scoprire sul nascere eventuali malattie come le epatiti che se non curate possono evolvere in cirrosi e in tumori come sul dire prevenire è meglio che curare per sapere molto prima quando è il caso di intervenire con delle terapie o con delle diete o con l'astensione dall'alcol ed evitare l'evoluzione in cirrosi e l'evoluzione in epatocarcinoma ora la pagina ecclesiale nella consueta udienza del mercoledì tenuta nella biblioteca del palazzo apostolico Papa Francesco ha proposto una riflessione sulla preghiera con la Bibbia la sacra scrittura ha spiegato Francesco è un tesoro inesauribile la conoscenza della parola ha proseguito non è questione di ripetizione meccanica ma di luogo in cui Dio incontra tutti e non lascia le cose come prima la parola si incarna in noi e cambia le cose e il fulcro attorno al quale ruota la catechesi di Papa Francesco dedicata alla preghiera con la Bibbia ciascun versetto scritto secoli fa è per ciascuno di noi capita ha rilevato il Papa che un passo della scrittura già ascoltato diverse volte un giorno improvvisamente ci parli e illumini una situazione che si sta vivendo in quel momento tutti i giorni Dio passa e getta un seme nel terreno della nostra vita dipende da noi dalla nostra preghiera dal cuore aperto con cui ci accostiamo alle scritture perché diventino per noi la parola vivente di Dio ma avverte Francesco non bisogna strumentalizzare la sacra scrittura usandola per confermare la propria visione filosofica e morale occorre invece sperare in un incontro a me da un po' di fastidio quando sento cristiani che recitano versetti della Bibbia come i papagalli oh sì il Signore dice vuoi così ma tu sei incontrato con il Signore con quel versetto non è un problema solo di memoria è un problema della memoria del cuore quella che ti apre per l'incontro con il Signore e quella parola quel versetto ti porta all'incontro con il Signore noi dunque prosegue il Papa leggiamo le scritture perché esse leggano noi la Bibbia non è scritta per un'umanità generica ma per uomini e donne che hanno un nome e cognome e la parola di Dio impregnata di Spirito Santo quando è accolta con un cuore aperto non lascia mai le cosse come prima mai cambia qualcosa e questa è la grazia la forza e la parola di Dio al termine dell'udienza durante i saluti il Papa ha concluso con un richiamo un appello a ricordare gli orrori della Shoah per scongiurare che si ripetano sentiamo le parole del Papa ricordare è un'espressione di umanità ricordare è segno di civiltà ricordare in condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità ricordare anche e stare attenti perché queste cose possono succedere un'altra volta incominciando le proposte ideologiche che vogliono salvare un popolo e finendo a distruggere il popolo e l'umanità state attenti a come è incominciata questa strada di morte di sterminio di brutalità e nel giorno della memoria si è svolta nella sala del consiglio della città metropolitana di Genova la cerimonia organizzata dalla prefettura alla presenza del prefetto Carmen Perrotta del sindaco di Genova Marco Bucci dell'assessore regionale Ilaria Cavo dei rappresentanti della comunità ebraica l'orazione ufficiale è stata tenuta dal professor Simon Levi Sullam docente di storia contemporanea all'università Ca' Foscari di Venezia che ha svolto una ricostruzione storica dei fatti della Shoah la cerimonia è proseguita con la comunicazione della notizia che il capo dello Stato ha voluto destinare quale suo premio di rappresentanza una medaglia per le iniziative messe in campo per la città di Genova e il suo territorio metropolitano infine il prefetto ha consegnato 14 medaglie d'onore del Presidente della Repubblica ad altrettanti familiari di ex deportati della provincia di Genova in questa occasione gli ospiti dell'Anfas Tigullio Est di Chiavari hanno realizzato un video in cui attraverso disegni ripercorrono gli eventi che hanno portato la Shoah conoscere la storia per non dimenticare vediamo il 27 gennaio del 1945 l'esercito russo liberò i prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz da quel giorno il 27 gennaio di ogni anno è diventato la giornata della memoria come è nata l'idea di questo video il video è nato dall'idea dalla giornata della memoria che oggi è il 27 gennaio e seguendo la mission di Anfas che è l'inclusione e l'autodeterminazione delle persone con disabilità purtroppo il mondo non è tutto a colori esistono anche parti in bianco e nero del nostro passato del nostro presente purtroppo ne esisteranno anche in futuro e quindi per includere i ragazzi è stato affrontato questo argomento è stato affrontato in maniera chiamiamola diversa con un video attraverso delle illustrazioni e per quanto riguarda l'autodeterminazione per dare la libera scelta ai ragazzi di capire cosa sia il bene cosa sia il male e di scegliere ovviamente sempre la parte del bene come è stato fare questo video questo video è stato gli ebrei bellissimo ho letto l'immagine sul foglio e poi abbiamo visto anche un video su delle bambine sei soddisfatto di come è venuto? in seguito Hitler direi di sì chi ha fatto i disegni? e li trasportò e capito io e i miei compagni quanto ci avete lavorato? ci abbiamo lavorato due giorni l'idea è incominciata lunedì ci siamo incontrati con i ragazzi e i ragazzi giustamente hanno chiesto mercoledì sarà la giornata della memoria che cosa è la giornata della memoria? abbiamo incominciato prima un percorso conoscitivo e cognitivo molto semplice cercando di tralasciare gli argomenti più crudi e allora abbiamo cercato di dare il nostro contributo alla giornata della memoria con questo video interamente autoprodotto per non dimenticare gli errori che sono stati commessi una stella per Nella invece è il titolo del progetto realizzato da Ampi di Chiavari in collaborazione con la scuola del fumetto per celebrare il giorno della memoria si tratta di una grafic novelle ossia di una storia fumetti che racconta la vicenda di Nella Tias bambina di 5 anni che fu deportata dal campo 52 di Calvari ad Auschwitz l'opera è stata realizzata da Marta De Vincenzi e Maddalena Stellato entrambe studentesse della seconda superiore al liceo classico del Pino di Chiavari non è semplice dare voce ai pensieri e alle paure di una bambina lo è ancora meno se si tratta di Nella Tias che a soli 5 anni fu deportata prima al campo 52 di Calvari e poi nell'agre di Auschwitz a cimentarsi in questa impresa Marta De Vincenzi e Maddalena Stellato entrambe studentesse di seconda superiore del liceo classico che hanno tradotto questa storia in immagini e testi e il risultato è una stella per Nella una graphic novel che racconta la Shoah attraverso gli occhi di una bambina l'abbiamo girato dal punto di vista della bambina infatti abbiamo dato molto peso alle emozioni a quello che la bambina poteva a quello che la bambina poteva percepire che ha molto poco ci siamo dovute immaginare come potesse pensare una bambina di 5 anni le parole ovviamente non sono di una bambina di 5 anni perché non avrebbe parlato così lei ma è il suo punto di vista il progetto è stato commissionato da Ampi Chiavari in occasione del giorno della memoria coinvolgendo la scuola chiavedese del fumetto il direttore Enrico Bertozzi ha chiesto a Marta di fare i disegni lei a sua volta ha pensato alla compagna in classe Maddalena per i testi le due autrici hanno quindi lavorato in autonomia studiando la storia e visitandogli persona il campo di prigionia di Calvari è stata molto interessante io sono stato in disparte ho lasciato lavorare le ragazze e mi sono preso il piacere di guardarle lavorare è stato molto bene un impegno durato circa 4 mesi ciò che rimane in questo caso è molto di più che un libro è sicuramente stata un'esperienza molto formativa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista morale è stata una grande esperienza mi ha lasciato molto non sapevo minimamente della storia di Nella e effettivamente una bambina di 5 anni che viene portata in un campo di concentramento è un tema molto forte e mi ha commosso lavorarci sopra e a Moneglia il giorno della memoria è stato celebrato con la lettura di alcune testimonianze di Liliana Segre l'evento in modalità online è stato pubblicato sulla pagina facebook della proloco di Moneglia a partire appunto da oggi pomeriggio è stato proposto un video in cui il consigliere con delega alla cultura del comune Giulia Dezza ha dialogato sulla sciocola professoressa Giulia Marseglia vicepreside del luceo Luzzati di Chiavari potete trovare il video come possiamo forse anche vedere sulla pagina facebook della proloco di Moneglia dove è stata inserita integralmente la lettura di questa testimonianza di Liliana Segre ora la cronaca nella notte a Chiavari alcuni giovani si sono ritrovati in centro disturbando i residenti con i loro schiamazzi sul posto sono intervenuti i carabinieri cinque giovani di età compresa tra i 18 e 20 anni e un minorenne sono stati identificati e denunciati inoltre sono stati tutti multati per non aver rispettato il coprifuoco serale come previsto dalla normativa anti-covid passiamo ora allo sport quattro vittorie nelle ultime cinque partite terzo ultimo posto in classifica e una salvezza ancora alla portata la Virtus Entella arriva al giro di boa del campionato di serie B con una squadra che ha ritrovato gioco e risultati dopo una partenza con il freno a mano tirato sabato i biancocelesti ospitano al comunale il Cosenza che li precede di un solo punto in classifica sentiamo troppo facile chiederti che cosa è cambiato però la squadra sta acquisendo fiducia e si vede giorno dopo giorno sì sicuramente eravamo consapevoli di quello che dovevamo fare comunque per cambiare marcia e nelle ultime partite sicuramente abbiamo fatto ci siamo ritrovati più squadra sappiamo quello che dobbiamo fare in campo quindi questo è il frutto del lavoro che abbiamo fatto da quando è arrivato comunque il mister Vivarini e ora stiamo appunto raccogliendo quanto abbiamo fatto in allenamento e quanto abbiamo preparato con il mister nelle settimane di difficoltà si diceva che la difficoltà fosse anche mentale è stata importante la reazione contro il Pisa perché dopo una prima mezz'ora non facile nel quale Pisa ha avuto diverse chance la squadra è rimasta lì con la testa e poi ha fatto un grande secondo tempo sì sicuramente comunque quando vengono fuori queste prestazioni vuol dire che il gruppo è solido che la squadra vuole fare bene e che comunque in campo ci aiutiamo tutti insieme tutti e undici e sappiamo bene quello che dobbiamo fare per raggiungere appunto il risultato di là delle difficoltà che poi possiamo trovare in campo adesso c'è il Cosenza altra sfida chiave delicata che però Lentella gioca in casa dove nelle ultime tre partite ha fatto tre vittorie sì penso che il fattore casa lo dobbiamo sfruttare nel miglior modo possibile anche perché è giusto che sia così in un campionato difficile come questo e quindi spero che a Cosenza continuiamo con questo trend e faremo di tutto per poter continuare a vincere Cristiano Simonetti è stato confermato Presidente del Centro Sportivo Italiano di Chiavari per il quadriennio 2020-2024 è eletto all'unanimità per Simonetti è il sesto mandato consecutivo che non potrà non tener conto delle difficoltà scaturite dalla pandemia per tutti gli sport ci sarà un'attenzione particolare ha detto il neorieletto Presidente elaboreremo progetti scolastici e di marketing sul territorio rafforzeremo l'attività degli oratori e nelle parrocchie le altre notizie della giornata nel riepilogo del punto news a Rapallo sono iniziati i lavori di rifacimento del muro di contenimento di via San Michele di Pagana crollato a seguito della mareggiata 2018 l'opera dell'importo di 315 mila euro sarà eseguita dalla sedilmar di Carasco e prevede anche rifacimento del molo prendisole preesistente è stato firmato a Genova l'accordo tra Ministero per i beni culturali agenzia del demane e comune di Casarza Ligure con il quale la seicentesca casa rurale appartenuta al letterato Umberto Fracchia verrà trasferita in proprietà al comune per essere trasformata in centro culturale luogo di partecipazione e di condivisione aperto ai cittadini ai giovani e ai turisti da lunedì prossimo la biblioteca della società economica di Chiavari riapre le sue porte per la consultazione dei libri oltre che per il prestito sempre previa prenotazione per accedere occorrerà come sempre telefonare al numero 0185 363 275 scegliendo fra due fasce orarie 8 e 30 13 oppure 14 17 30 un centinaio di persone rappresentanti e dipendenti di strutture ricettive situate tra Chiavari e Rio Maggiore hanno partecipato al Riviera Tourism Workshop un'intensa settimana di formazione e aggiornamento voluta e organizzata dal Consorzio Operatori Turistici Moneglia Proloco Deiva Marina Framura Turismo Visit Levanto e Visit Bernazza i corsi tenuti da relatori di livello internazionale hanno interessato diversi temi accoglienza etica marketing social gestione delle campagne a pagamento Ancora due notizie di servizio la prima riguarda l'apertura delle iscrizioni all'iniziativa Scrivere una Fiava troviamo la notizia pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com da domani si potrà accedere al sito www.eventbrite.it per iscriversi a questa iniziativa organizzata nell'ambito della 54esima edizione del premio Andersen per la Fiava inedita il corso prevede il via il 3 febbraio scrittori ed esperti di narrativa per l'infanzia e per i ragazzi offriranno ai partecipanti gli strumenti per immaginare e scrivere una Fiava il primo appuntamento riguarderà il tema come si riscrive una favola tradizionale e poi disagi in vista per la giornata di venerdì nella zona di Certennoli e Aveggio nel comune di San Colombano Certennoli per l'interruzione alla fornitura di energia elettrica a causa di alcuni lavori agli impianti di distribuzione l'energia verrà interrotta dalle 9.30 alle 17 in diverse vie delle frazioni con questa comunicazione di servizio si chiude il nostro telegiornale l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il Tg Rassegna Stampa condotto da Marco Revello e poi alle 12.45 con la prima edizione di Tigullo Oggi grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti.